bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della nostra serie minecraft vabbè sto già rincredito di mattina signori il nostro episodio della master league con il livorno su ps4 signori ritorniamo a giocare oggi video importante signori perché non lo so neanche io, spogliatoio, dati si signori video importante perché abbiamo 4 giorni di trattative che ci andremo a sparare tutte nel video di oggi signori quindi cerchiamo un attimino di capire giusto come cazzo funziona qui il mercato detto questo signori prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i sugi e per il supporto vi ricordo di iscrivervi al canale signori allora iniziamo col mercato allora andiamo un attimino intanto a capire la nostra squadra allora io direi che gli 11 che abbiamo dentro per ora ce li potremmo anche tenere anche se fanno un po' schifo però diciamo che questi non li metterei sul mercato signori non li metterei sul mercato noi poi abbiamo paparini, vidigal, fannucci, vigiani, grauso, ruotolo, evangelisti, malera, doga, rabito, protti che si ritira a fine stagione quindi non lo possiamo vendere a meno che lo posso inserire e aggiungi alla lista delle accessioni sei sicuro? si? ah si perfetto lo potevo fare ma reggini pure tu ciao vattene anche se mi sembra che si ritirino a fine stagione quindi non penso ci sarà molto da poter cedere poi abbiamo vanigli colombo, danielevicius, bilotti, balleri, perna allora facciamo un attimo allora danielevicius colombo è peggio quindi colombo sei anche tu stato selezionato per essere ceduto speriamo che qualcuno di questi sia nevata signori perché se no stiamo veramente messi male allora vidigal ce lo teniamo vidigal crauso e ruotolo car? che casolo di posizione è la car? non ce l'abbiamo non giochiamo con il car che cazzo la mia dobbiamo fare tutti questi car? ruotolo scelgo tre per essere ceduto sì, ciao evangelisti melara con l'MCA doga rabito protti mazzoni MCMCA perna perna mio sarai giovane sarai tutto quello che vuoi ma fai proprio no, vanigli intanto vendiamo vanigli sì mettiamo vanigli mettiamo tutti quelli proprio vecchi signori balleri ciao balleri mio che se no non si cagherà nessuno anche bilotti signori miei bilotti mamma mia vendiamo tutti quelli un pochino più vecchiotti che non sarebbe male ruotolo perfetto l'hanno preso giusto vidigalle è pure vecchio vidigal mio sì se te ne vai quella tu non ci fai un grosso favore perché comunque noi abbiamo la squadra che è bella bella sistemata ora dopo che abbiamo messo un po' di giocatori sul mercato andiamo a prendere quello che a me interessa in primo in primis signori cubo così subito sul no ricerca avanzata signori martins voglio lui sì è rimasto un memorizzato obbafemi martins signori ci vieni martins non ci viene proprio cazzola prima era una stelletta che ci poteva venire e c'era no martins è mio non mi puoi fare questo proviamoci signori proviamoci avvi la trattativa per prestito avvi la trattativa per lo scambio oddio forse è prestito lui ci verrebbe in prestito ma noi abbiamo la trattativa per l'acquisto sì selezione le condizioni di negoziazione allora 4 anni di contratto tratta 7056 stipendio stimato cazzarola ne vogliono questi soldi come 7000 io con che cosa campo signori questo è un grossissimo problema questo è un grosso problema 7000 e se non ci riesco a rientrare nel nel coso no niente signori martins non lo prendiamo in prestito martin ci viene in prestito periodo di contratto dice fino alla settimana 36 tratta 1740 1764 no porca miseria via per sì devo capire come cazzo la funzione applica ritratta 1008 applica ok e martin se forse lo stiamo prendendo signori poi cancella tutto età 18 nazionale posizione centrocampista avanzato vediamo un centrocampista avanzato se invece potrebbe essere utile vediamo anche un centravanti mediano sinceramente centrocampista è rientrato no vediamo vediamo anche un difensore centrale marcatore no difensore centrale ok vediamo vediamo cosa esce fuori signori vediamo cosa esce fuori da questa ricerca fatta così molto giovane ok vediamo vediamo chi becchiamo allora tutti questi sono propensi a Berbatov a Berbatov non ci viene Bocinov ci viene però quanti anni ha Bocinov scusatemi 18 anni bulgaro Valerio Bocinov lo sischi non ci viene volume se la potrebbe pensare ok rune ci verrebbe signori rune ci verrebbe joy call forse eramenco eramenco e veloce me ne serve poi uno veloce signori me ne serve uno veloce 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 dove la velocità perché ho perso l'acqua ok velocità e accelerazione me ne serve proprio uno veloce uno che spacchi tutto 8082 potrebbe già essere interessante non c'è mese mai nel addirittura farza il club cristiano ronaldo ci sta avvenendo zig ok e questo abbiamo finito allora se tornati fatemi un attimino vedere fatemi un attimino vedere spogliatoio formazione noi abbiamo un passoni che è un cav centrocambista avanzato ok un cav ok ok va bene facciamo una cosa intanto andiamo avanti nella prima giornata no continuiamo le trattative cerca cerca ricerca avanzata ripartiamo così scusatemi io io per non saperne leggere scrivere anche bojinov però tu metti bojinov e rune segnala differenza cioè rune avviene per trasferimento se seleziona le condizioni quanto vogliono 5.709 dai 5.000 li potremmo anche 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 trattiamola però scusatemi trattiamola te ne do te ne do 5.000 tondi al massimo mi mandano a cagare cosa può succedere che al massimo mi mandano a cagare e noi la rischiamo rune perché tutti gli altri me li ha messi non me li da più disponibili non capisco perché gli altri non sono più disponibili signori va bene non lo so andiamo avanti con la prima giornata dai chiudiamo questa prima giornata di mercato vediamo se succede qualcosa di interessante vediamo se succede qualcosa di interessante trattativa 2 abbiamo bisogno di qualche giocatore signori abbiamo bisogno di qualche giocatore soprattutto abbiamo bisogno di vendere qualche giocatore attenzione sia martins che le rune sono fallite ok ok ottimo 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 iniziano bellissime la prossima trattativa 2 bene intanto non sono arrivate offerte per i nostri giocatori questa è proprio una cosa che fa piacere fa piacere in maniera pesante ok 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 ritorno giocatori che vuol dire non lo so cosa cazzarola vuol dire ritorno giocatori torniamo alle trattative signori cerca ricerca avanzata allora bocinov quanti anni ha signori bocinov ha 18 anni ma non è tutta questa potenza però potremmo lavorarci bocinov scelgo te si selezione le condizioni 3000 e dai però che cazzarola sono abituato con fifa allora 3 anni di contratto ti do 3000 e ti do 400 dai bocinov ce lo portiamo a casa e poi eh si rosischi ci sta venendo rosischi rune non lo posso ritrattare perché giustamente ci è saltato prima mi serve un cav signori mi serve un cav che se dovesse arrivare lui se dovesse arrivare anche bocinov se no è già bocinov potrebbe essere un buon un buon innesto signori cerchiamo un cav interessante no buffel del feynord ci sta venendo signori rosischi ci sta venendo rune non ci viene tu costi troppo pomatski pomada è un attaccante pomada se le demesis no anche tecnica non ci interessa però dove sta il parametro della tecnica tecnica di tiro testa culpare tecnica 82 non sarebbe male signori non è velocissimo non è velocissimo grande si ci sta venendo quanto vogliamo per grande tanto per 7000 porca miseria va bene zigu ci viene zigu zigu buona tecnica buona accelerazione quanti anni hai zigu 20 anni zigu ci vieni ti do 3.300 e 4 e 2 per 3 anni di contratto ci vieni zigu non sembrerebbe male zigu come come questo già costa troppo custom emre chan ci sta venendo certo niente poi ruben olivera non che non ci pensa nemmeno aspetta ma van persi signori van persi grande van persi ma zigu era propenso a venire o no zigu è propenso a venire ok ma bojinov che manco mi sono scordato a controllare non ci sta più bojinov ah vero perché li ho levati quelli ok yapi popo yapi yopo yapi yopo shamut franco franco mi ricordavo che fosse più facile sinceramente acquistare giocatori ma giustamente se non hai soldi non puoi fare un cavolo e questo è mattier mattier perché mattier scusatemi via trattare per il trasferimento ma io non ho comprato mattier non capisco van dick van dick ci viene ma non è il van dick che conosciamo noi bene rosina 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 ci verrebbe e dai sbaglio sempre quanti anni ha rosina 20 anni ma non c'è minimamente tecnica va bene signori andiamo chiudiamo la seconda giornata di mercato cazzarola a me piacerebbe però portarmi a casa qualcuno cazzarola si io sbaglio sempre tasto ok seconda giornata di mercato in tutto questo non ci stanno chiedendo minimamente i giocatori che noi abbiamo messo sul mercato però bene però bene inizia benissimo questo mercato fallite 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 dai ma non funziona così ma come fallite fallite zigu zigabucinov la terza e prossima la prossima giornata 3 è bello che non li posso più ricontattare zigabucinov bene bene siamo dei grandi siamo dei grandi mi fa vedere solo una cosa scusami cerca ricerca avanzata ok c'era un certo un ergas ma io non li ho chiesti questi giocatori perché lui mi fa sono confuso signori c'era anche quel quel mati ecco mati avviate per trasferimento avviate per no perché l'ho saltata di va giustamente saltata ma io non li ho mai chiesti questi giocatori De Ross Barreto e Botar CM non ho capito lui mi consiglia giocatori che io posso andare a prendere che forse ci verrebbero non capisco questa Gonzales no Gonzales non esiste proprio grazie a tutti